quello è il ruogo e ci stiamo avvicinando vedi? guarda da là che cos'è eccolo qua è il ruolo non è vanno e qui si è riuscita guarda da qui si immagini eccolo qua, ruolo non è vanno e qui si è riuscita guardate che cos'è guardate che cos'è ora andiamo a pigliando perchè ragazzi guardate che cos'è Grazie a tutti. Guardate qua, eccosè, ecco qua, questo è il rugo. La puzza è di plastica, si vede bene che è recintato, una puzza di plastica è impossibile. Chissà chi ci sta a mettere, lo mappiamo. Non mi dà le coordinate, comunque il grumo ne va. Questa è sotto il pilone, guardate il nero dei piloni, qua si viene incendiato regolarmente, eccolo qua. Qui ci sta a mettere, questa è roba. E' un po' difficile a portare la macchina. Qui ci sta a mettere, qua è tutto scaricato di immondizia e non si riesce ad andare là. L'hanno fatti in un posto recintato, eccolo qua. Poi è tutta plastica. Lì si vede bene che cos'è. Ma si vede che è un pezzo della plastica che brucia, eccolo là. Plastica che brucia, un fumo immenso. Giorno 29, piglia piede anche la paglia, queste cose qua. E lì è sempre un pezzo nero, vedi? È sempre un fumo nero, sempre nello stesso posto. Vicino alle colgolture. Ecco qua. Tutto disabitato. Vediamo se mi dà la mappa. Un fumo pazzesco. Un odore di plastica immenso. Faccio un democchio. Parla di plastica. Grazie a tutti.